Il 3 marzo ci sono le primarie per scegliere il nuovo segretario del Partito Democratico, quindi la prima cosa che dico ai cittadini è andate a votare perché è una bella occasione di democrazia. Io personalmente ho fatto la mia scelta di sostenere Maurizio Martina perché credo che in questo momento serva un segretario a tempo pieno, una persona che si dedichi esclusivamente al futuro del Partito Democratico e che non abbia altri incarichi. In questo momento abbiamo bisogno di unità e Maurizio Martina è una persona capace, una persona mite, una persona che saprà garantire l'unità in futuro del Partito Democratico e solo grazie ad un partito unito noi saremo in grado di costruire un'alternativa per il futuro del Paese, un'alternativa a questo governo che sta portando l'Italia in recessione, che sta creando tanti problemi al futuro dell'Italia. Quindi nell'invitare tutti domenica 3 marzo ad andare a votare chiedo di fare come me, di sostenere convintamente Maurizio Martina.